Buongiorno e bentornati in AutoSmile, oggi vi presentiamo quest'icona tra il crossover e SUV nel mercato italiano, è un Audi Q3 Sportback, perciò Sportback significa con la linea che va giù a coupé, la linea alla coda posteriore che è come un coupé rispetto alla Q3 classica, è una Q3 Sportback 35, una Business Plus come allestimento, S-Tronic perciò con cambio automatico, è un 2000 turbo diesel da 150 cavalli, vuol dire 110 kilowatt, è un ottimo motore molto economico da mantenere perché ha dei consumi veramente irrisori, la vettura è la nostra macchina aziendale ed è stata immatricolata ad aprile del 2021 e adesso andremo a presentarvela, cerchi in lega da 18 pollici, molto belle le cromature intorno alle cornici dei vetri, fari ovviamente full LED, tipica Calandra single frame di Audi, cambio automatico S-Tronic, aprile del 2021, i sensori di parcheggio sono sia anteriori e posteriori, bellissima linea, mi piace molto, poi anche queste parti che sono verniciate di scuro come le protezioni sotto delle portiere potete vedere i passaruota, molto belle ma sono verniciate non sono grezzo in fondo tipiche di qualità Audi, fari full LED anche posteriori, sensori di parcheggio anteriore e posteriori appunto, la vettura è sempre stata tagliandata ufficiale in Audi perciò tutti i passaggi sono ufficiali di Audi, la vettura è italiana, non è di importazione poi dal telecomando basta schiacciare questo tasto centrale e si attiva bagagliaio molto ampio, tutto rivestito in moquette col doppio fondo e i sedili sdoppiabili molto molto ampio il bagagliaio ovviamente anche questa vettura essendo italiana ha tutto libretto uso e manutenzione, chiave e doppia chiave presenti poi per chiuderlo basta schiacciare questo tasto le frecce sono dinamiche, infatti potete vedere Audi pensiamo che sia stata la prima a utilizzare questo sistema e adesso entriamo questo qui il pannello porta posteriore destro ecco guardate se fuori è bella, dentro è incantevole prese USB-C posteriori pannello porta anteriore lato passeggero guardate come sono complessi, bellissimo anche questi profili con maniglia sedile passeggero di guida regolabile in altezza bracciolo anteriore plancia classica stile Audi, classico tedesco vetri elettrici anteriori e posteriori specchietti ripiegabili elettricamente elettrici e sbrinabili guardate come è tenuta la vettura cerchiamo sempre dalle immagini di trasmettervi tutta la qualità delle vetture che selezioniamo per voi ma voi non fidatevi assolutamente mai ci contattate e venite a visionare e provare la vettura digital cockpit totalmente digitale freno di stazionamento elettrico ovviamente cross del cambio automatico tanto spazio molto bello il volante con i comandi al volante sia del vivo voce bluetooth poi vedete il cruise control adattativo perciò la macchina frena e accelera a seconda della velocità che avete impostato comunque poi vi spiegheremo nel dettaglio adesso andiamo a girare il quadro climatizzatore b-zona destra e sinistra separato navigatore satellitare oltre che apple carplay e android auto tutto a touch screen ovviamente la vettura e poi la strumentazione come potete vedere cambia basta schiacciare questo tasto qua con scritto più e potete proiettare anche il navigatore sull'ID cockpit molto bello il motore quattro cilindri 2.000 turbo diesel sporco di utilizzo ma meglio sempre lasciarlo tutto tutti i tagliandi ufficiali Audi ricordo sempre certificati riassumendo questa Audi Q3 sportback 35 2.000 turbo diesel 150 cavalli 110 kilowatt cambio automatico S-tronic dell'aprile del 2021 è la nostra vettura aziendale sempre tagliandata ufficiale Audi una vettura italiana non è di importazione vi aspetta qui nella nostra sede ma ricordatevi sempre di contattarci prima di venire a visionarla e provarla così sarete certi che sia ancora disponibile per la vendita chiedete sempre noi vi aspettiamo anche questa vettura ha la possibilità di essere finanziata con lo 0% in anticipo anche con mini rate piccolissime rate per venire incontro alle vostre esigenze e i nostri consulenti vendita sapranno dare tutte le risposte alle vostre domande e i nostri consulenti